Buongiorno. Speriamo oggi di essere meno prolissi del solito. E' un mio difetto, forse, quello di parlarvi lentamente, ma credo sia un'abitudine per fare ascoltare bene. Però cercherò di limitarmi nel tempo. Voglio tornare stamattina, voglio tornare oggi a riprendere delle differenziazioni che ci sono tra il modo di essere, di fare tra virgolette il sindaco, il modo di essere sindaco, il modo di amministrare, il modo di parlare, soprattutto il modo, ecco, il modo di rivolgersi ai propri cittadini da parte di due diversi sindaci. Noi abitiamo qui. Il paragone che possiamo fare più immediato è quello dei nostri due comuni, Bacoli e Monte di Procida, che sorgono nello stesso promontorio. Non si distinguono, per chi viene e non sa, non distingue le demarcazioni tra i due comuni. Un confine che probabilmente non è conosciuto nemmeno da tutti i montesi e da tutti i bacolesi. chiudo subito la parentesi per non perdere tempo, come avevo promesso. Andiamo all'ultimo comunicato dei due sindaci. Capita, spesso, amministrando in un territorio limitrofo, di fare degli interventi ai sindaci, di fare degli interventi su un argomento simile, sullo stesso argomento. Allora, sapete, nei giorni scorsi abbiamo avuto problemi di acque torreziali, allagamenti, disagi per i cittadini, super lavoro per gli addetti ai lavori, impegno per gli amministratori. Allora, vediamo come si rivolgono in questi messaggi i due sindaci. Credo che ci sono delle differenziazioni. Cominciamo dal sindaco di Bagoli, il comune più grosso, quasi il triplo, anzi, forse di più dell'altro comune. E esordisce il sindaco di Bagoli. E' giusto criticare il sindaco per gli allagamenti in città. Sono disagi inaccettabili. Ed anche se esistono da prima che io nascessi, ed anche se è difficile intervenire senza soldi, senza personale e con allerte meteo sempre peggiori, mi assumo tutta la responsabilità di quando è ereditato. Non si assume la responsabilità di quello che è ora. Uno si assume la responsabilità di quello che ha ereditato. Di quello che ha ereditato cerca una giustificazione. Ed è da giustificare. Perché si ha ereditato una situazione. Però partendo da un disagio dei cittadini. Partendo da un disagio della città, allagamenti, danni, possibili incidenti che ci sono stati. Non lo so. E' un disagio enorme per i cittadini. Questi giorni sono stati. Credo che partire già piangendo per gli attacchi che avrebbe ricevuto mi pare una cosa esagerata. E io capisco che allora non parlerò. Dice che mi hanno attaccato per questi motivi. Non è colpa mia. No. E' giusto criticare il sindaco per gli allagamenti in città. Non è o era. Non è giusto. Non è giusto criticare il sindaco. Non puoi dire che è giusto solo per far sapere che è ingiusto. Ecco, questo modo di approcciarti ai cittadini, caro sindaco, è un modo, non voglio dire arrogante perché la parola è troppo grossa, ma è un modo che lascia stupito un osservatore che vuole capire tu dove vuoi andare a parare. Comunque andiamo avanti. Non perdiamo tempo. Io mi limito a leggere quello che hanno scritto i due sindaci. Siamo stati votati dal popolo di Bacoli per risolvere i problemi che affliggono da decenni in nostro paese. Sembra da decenni. Quindi lui non ha colpa. La prima cosa dice guarda avete visto che è successo? State parlando tutte te. Ma io che colpa ne ho? Non è colpa mia. E' colpa di quelli che c'erano prima. Ma forse non dice nemmeno questo. Poi vediamo. E sappiamo, e sappiatelo. Lavoriamo giorno e notte per potervi assicurare una città più bella, più pulita, più efficiente. Una città vivibile. Lavoriamo giorno e notte. Ecco. L'impegno. L'impegno di Oturno. Stavolta ha usato il plurale. Non è che ha detto lavoro. Però mi aspettavo che... Però per come lo dice sembra più un plurale maietatis. Nel senso dice noi, come parlava una volta il Papa, il Papa non parla più al plurale. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto, noi abbiamo scomunicato, eccetera eccetera. Quindi sappiatelo che lavoriamo giorno e notte. E ora incomincia una cosa che ripete per ben tre volte in un breve comunicato. Voglio mostrarvi un'immagine. Queste foto. E fa vedere delle foto e lo dice pure che cos'è. Questa è la Rotonda Maiuri, a Cappella, tra via Lungolago, via Panoramica e via L'Olimpico. Qui per anni e anni, a ogni minimo maltempo, saltavano le condotte fognarie. E per ore rissegnava in strada un lago di melma. Puzza nausea abbonda, con buche in strada enormi, accanto a bar, ristoranti, case. Accanto a una scuola. Siamo intervenuti con lavori strutturali. E come vedete abbiamo risolto il problema. Se è risolto il problema non lo so, ma non mi pare che sia risolto completamente. Però se lo dice lui che è risolto ci dobbiamo credere. Perché lui, come diceva Antonio nel suo discorso per la morte di Cesare, lui è un uomo d'onore, perciò ci dobbiamo credere. Come vedete abbiamo risolto il problema. Lo stiamo, lo stesso, siamo riusciti a farlo in altri punti del paese. Ma questo non lo so se è vero. Perché qua ha citato le vie dove ha risolto il problema. Queste altre zone del paese dove è stato risolto, perché non le nomina le vie lui che è tanto preciso nelle sue cose. Perciò ho paura che forse si stia risolvendo, si sta lavorando e tutto il resto. Però questo problema non mi è sembrato risolto da tutti i video che sono circolati in questi giorni. E ne sono certo. Lo stesso riusciremo a fare anche in tutti quei punti del territorio comunale che vivono i disagi delle pionce. In taluni casi stiamo pulendo le grade. Mi pareva che questa cosa l'avevo già sentita. Mi pareva che questa cosa l'aveva già detto. Però forse evidentemente non avevano finito. Stiamo pulendo le grade. In altre bisognerà scavare. Mi pareva di averlo sentito già dire. In altre ancora bisognerà attivare un nuovo sistema Pognario che in particolare dal Mazzone al Fusaro fino a Via Cuma sarà completato nei prossimi mesi. I prossimi mesi non lo sappiamo se sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre, l'anno prossimo. Non lo sappiamo. I prossimi mesi. Ci vuole tempo e ci vogliono soldi. Ecco, questo è chiaro. Ma voi mi accusate, voi fate questo, fate quell'altro. Ci vogliono soldi e ci vuole tempo. Quindi ci vorranno mesi, ci vorranno anni, però senza soldi e senza tempo non si fa niente. Lo ripeto e lo ripeto la seconda volta. Voglio mostrarvi queste immagini. Eccolo qua. Perché questa cosa che è importante per lui, lo ripete. Che sia la seconda volta che lo ripeto. Voglio mostrarvi queste immagini. Baratele a memoria queste immagini. Perché quella è, quella resta l'immagine. Per raccontarvi che è possibile risolvere anche con problemi che sembrano atavici. incangreniti. Ma ho bisogno di un po' di pazienza. Non ho la bacchetta magica. Non faccio miracoli. Eccolo. Ci vuole la pazienza, sindaco. La pazienza che chiedi ai cittadini la devi avere anche tu con la città. Che se quando hanno un grave disagio parlano, sparlano, si lamentano. E tu sei il sindaco. Devi sopportare questa cosa. Perché il disagio dei cittadini è anche un disagio tuo. Non puoi pretendere che i cittadini stanno bene contenti. Meno male, ma il sindaco già sta facendo. Poi ora mi faccio una nuotata e poi dopo... Però meno male che il sindaco già sta facendo. Se io ho un disagio, sindaco, io mi lamento. E il mio lamento tu lo devi rispettare. Non puoi prenderlo come un'offesa personale. Come una lesa maestà. Continuiamo. Ma non si può fare tutto e subito. Tre volte. Che sia la terza volta ora. Vi mostro queste foto. Anche per evidenziare un altro importante miglioramento generalizzato su tutta la città. Le strade asfaltate. Finta che ora basta. Le strade asfaltate. Le hai detto una volta. Due volte. Tre volte. Dieci volte. Ma è possibile che ora pure con l'acqua allagata che le strade asfaltate non si verranno? Tu vedi le strade asfaltate? Abbi pazienza. Quello si rivedono già i tombini rialzati. Si vedono le buche. Li vedi le strade asfaltate. Ma fa una cosa. Le cose che fai, dille. E' buono. Ma non lo dire tutti i giorni. E così via. Da domani mattina l'area arancione passa l'allerta gialla, eccetera, eccetera. Il tuo modo di lavorare, il tuo modo di dire, di porgere ai cittadini. Io capisco, sindaco. Guarda che io questi video li faccio per il bene tuo. Io desidero che tu trovi il modo di correggerti un poco. Perché tu potresti passare alla storia per essere un grande sindaco a Bacoli. Però questo tuo modo di essere, questo tuo modo di presumere di essere l'unico, di sapere tutto e di non accettare nessuna critica, non sta bene. Ma ne hai fatto niente, questo fatto delle zone ZTL, eccetera, eccetera. Avevi detto che era una bugia, che si doveva pagare, che non si doveva pagare. E io ho visto che ora hai fatto una delibera, che hai cambiato quello che c'era scritto nella precedente delibera per non fare pagare i cittadini residenti. Quindi quell'appunto che ti si faceva da parte di alcuni cittadini, che tu avevi messo un balzello che avrebbe pesato sui cittadini, e tu hai detto stanno dicendo un sacco di bugie, stanno dicendo un sacco di fantoni, non è vero, non si deve pagare niente. Tu la precedente delibera l'avevi fatta, che si doveva pagare. Che poi state libera e non l'avete nemmeno letta, l'avete approvata senza leggerla, l'avete mandata al ministero senza leggerla, e ve ne siete accorti dopo, questo è un altro discorso. Però ecco, quando ti fanno notare poi una cosa, è più facile dire, guarda che effettivamente il funzionario ha fatto una giusta, noi abbiamo approvato per fare in fretta, però ci vuole solo una correzione. Una delibera fa una correzione e si manda al ministero per ovviare al caso. Però chiudiamo questa parentesi, perché se no ci dilunghiamo in un altro discorso che in questo momento non ci preme. Ora vi leggo il brevissimo comunicato del sindaco di Monte di Procida, che non dà colpe e non accetta colpe, perché amministrare non significa né dare né accettare le cose. Amministrare significa lavorare, 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 soprattutto lavorare efficacemente con gli altri, con tutti. Non basta usare il plurale maietatis. Allora vedete come comincia il sindaco di Monte di Procida. A caratteri grandi, grazie. È successo quello che è successo, chissà quando ne assedite parole, ma non rispondo a chi le hanno protestato, c'è poco da rispondere. Quelli che protestano hanno avuto un danno, vanno rispettati. Grazie. Allora vediamo a chi le grazie. Grazie a nome mio dell'amministrazione comunale e della intera comunità mondese, a tutti coloro che in queste ultime ore si sono prodigati per gestire la forte ondata di pioggia e le violente raffiche di vento che si sono abbattute sul nostro territorio. Ringrazio chi le canna fa di casa. Non ha detto guarda avete visto, abbiamo fatto, abbiamo detto, spacca e metto il sole. Non ci sta niente da spaccare e non ci sta niente da mettere al sole. Ci sta da lavorare e poi ringraziare quelli che lavorano con te, quelli che lavorano per la comunità. Grazie a tutte le forze dell'ordine, in particolar modo agli agenti della polizia locale, ai tecnici comunali, ai dipendenti di Tecra che hanno garantito la raccolta della spazzatura in città, nonostante della pioggia esistente e hanno segnalato problematiche e criticità già dalle prime ore del mattino. Grazie ai volontari della protezione civile palco per essere stati solerti nell'intervenire a sostegno di quanti avessero necessità e a tutti i cittadini montesi, grazie a tutti i cittadini montesi, che come sempre, con grande spirito di collaborazione, hanno ascoltato e divulgato le nostre raccomandazioni. Ringraziare i cittadini. Noi ce la pigliamo con i cittadini che magari dicono una parola, ce la pigliamo con i cittadini che magari fanno un suggerimento, ma lasciamo aperto. Tutti insieme abbiamo fatto squadra, eccola, eccola la cosa importante. Tutti insieme abbiamo fatto squadra e siamo riusciti a superare l'emergenza, ma ci attende una sfida ancora più impegnativa che dovrà vederci insieme ancora a lungo e con grande tenacia. Il nostro territorio ha vissuto uno sviluppo disarmonico e caotico, e dire poco. Il cemento ha divorato spazi, sottratto e ferito un territorio già estremamente vulnerabile. E di questo, purtroppo, oggi ne paghiamo le conseguenze. I cambiamenti climatici ci pongono di fronte a nuove sfide. Monte di Procida potrà essere un comune pioniere per la sua innata resilienza verso il ripensamento di una nuova dimensione spazio-temporale, in cui il rapporto tra ambiente naturale e società possono ritrovare un nuovo equilibrio. Monte di Procida non si arrende mai. Non è il sindaco che non si arrende, non è il sindaco che protesta, non è il sindaco che si lamenta, sia pure larvatamente. Il sindaco ringrazia, ringrazia tutti e nel ringraziare tutti ringrazia tutti i cittadini montesi per la collaborazione che danno e per l'impegno che dovranno ancora mettere, per l'impegno che dovranno ancora dare per la propria città. È un modo diverso di parlare, se non di amministrare, forse, forse anche di amministrare. È un modo diverso di porsi nei confronti degli altri. Sì, io te l'ho detto già altre volte. Più sobrietà, le cose gigantesche, le cattedrali nel deserto, i Babbo Natale enormi che devono fare, devono stupire, ecco, tutte quelle cose che devono stupire, che poi alla fine non stupiscono niente. Perché Babbo Natale sta là 15 giorni, non mese, e poi Uluam e non è carta peste quello che sarà. Non lo so. Dobbiamo stupire con le cose che agevolano la vita ai cittadini. È bello Babbo Natale, ma una bella inaugurazione sabato. I bambini gioiranno, applaudiranno, avrai i tuoi applausi. Però non lo so se farai una cosa che dice, io ringrazio di tutti gli applausi che ho avuto. Come ti lamenti delle critiche. Alla prossima fallo è una bella cosa. Ringrazio degli applausi che ho avuto. E io ringrazio i miei ascoltatori della pazienza che hanno ad ascoltare me con tutte queste sciocchezze. Saranno sciocchezze per qualcuno, ma non per tutti. Ciao.